Nei precedenti video abbiamo visto che non tutti i francobolli sono uguali tra loro. Oggi vedremo un francobollo davvero curioso e inusuale, un francobollo musicale. Pronti a seguirmi in questo video? Partiamo! Ciao e benvenuti a una nuova puntata del mondo del collezionismo. Oggi, come accennavo, parleremo di francobolli insoliti, noti e più come unusual stamps. E in particolare vedremo una recente emissione di Svizzera del 2014, un francobollo che suona. Il 4 settembre 2014 le post-elvetiche hanno messo un foglietto raffigurando un disco in vinile. Il francobollo, mediante un'apposita fustellatura, può essere staccato dal foglietto ed essere utilizzato per affrancare. Ma che sia staccato o meno il francobollo, il foglietto, grazie a una perforazione circolare al centro, può essere posizionato su un giradisca a 33 giri. La puntina del giradischi percorrerà i solchi presenti sul foglietto e farà risuonare l'inno nazionale elvetico. Il foglietto è anche un omaggio, al noto produttore elvetico di giradischi, Torrens. Il modello rappresentato sul foglietto è il TD 184. Lo vorresti anche tu? Cercalo su Delcamp e ne trovi a decine. Sul motore di ricerca di Delcamp cercate Unusual Stamp. Troverete questo e migliaia di altri francobolli insoliti e stravaganti. Potrete così anche voi avviare o completare questa collezione davvero particolare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete inserite un commento, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale, così continuerete a seguirci. Ciao e al prossimo video!